Ciao, sono Valentina e in questo video parleremo di amor proprio e ti mostrerò come il tuo amor proprio determina e crea le tue relazioni. Quando si inizia a praticare per manifestare in modo consapevole ciò che si desidera, in particolare in ambito sentimentale, è necessario, se non fondamentale, tenere in considerazione che il vero e proprio lavoro che andiamo a fare ha a che fare con l'amor proprio. Il concetto di amor proprio, possiamo chiamarlo anche autostima, amore verso se stessi, chiamiamolo come vogliamo, di fatto è proprio l'unico elemento che fa la differenza quando si tratta di manifestare e soprattutto di riflettere della nostra realtà esterna ciò che noi desideriamo. Andiamo per grado perché in questo video ti mostrerò come le tue relazioni, quelle che hai vissuto finora o quelle che stai magari vivendo nel momento presente, hanno a che fare solo ed esclusivamente con questo concetto, quindi con il tuo amor proprio. Ma prima ti ricordo se sei nuova in questo canale che ho preparato due risorse gratuite a cui puoi accedere attraverso il link che ho lasciato giù in descrizione e che ti possono aiutare nei primi passi del processo di manifestazione qualora tu stia iniziando ora o possono aiutarti se stai vivendo un periodo di singoltudine che ti sta pesando e che ti sta mettendo in difficoltà. Queste due risorse possono aiutarti in entrambi i casi e se sei interessata puoi trovare il link nella descrizione. Allora questo è un argomento che francamente mi piace molto e credo che se tu fai tuo questo principio, questo concetto, hai veramente la possibilità di poter trasformare enormemente la tua realtà esterna. Allora le relazioni, le relazioni che tu hai avuto finora o che magari stai vivendo anche in questo momento sono il riflesso di ciò che tu credi essere vero di te stessa e di ciò che tu credi che un partner possa provare verso di te. Quindi lo ripeto ha a che fare, cioè le relazioni, qualsiasi tipo di relazione, quando noi ci interfacciamo con la nostra realtà esterna dobbiamo tenere in considerazione che è una proiezione, un riflesso di ciò che noi siamo. Lo dico sempre, all'inizio quando si inizia a praticare il processo di manifestazione si fa appunto pratica, si usano degli strumenti, delle tecniche e via dicendo, ma in realtà l'obiettivo è quello di essere noi stessi la nostra manifestazione, cioè di incorporare dentro di noi e di sentirci tali la versione, quindi di incorporare e di sentirci la versione di noi che ha già ciò che desidera. È chiaro che ha strettamente a che fare con l'amor proprio, perché il fatto di credere di poter meritare determinati risultati o appunto il ritenere che gli altri ci vedano in un determinato modo, che sia il modo che ci fa sentire bene, che ci gratifica, ha a che fare con l'amor proprio perché ha a che fare sulla credenza che noi abbiamo che sia possibile per noi. Per cui nella misura in cui tu credi di meritare qualcosa, di essere appunto, di avere talmente tanto valore per meritare determinate cose, più tu hai un rispetto e una considerazione di te stessa, più questo andrà a determinare il tipo di relazioni che tu vivi. E se tu ritieni di essere una persona di grande valore, di essere una persona amabile, di essere una donna straordinaria o un uomo straordinario, dipende chi sta guardando questo video, e lo credi, quindi non è una finzione, lo credi, lo credi dentro di te e vada bene, vada bene. So perfettamente che la tua mente sta già pensando a dei motivi che giustifichino eventualmente questo tuo pensare di essere meritevole. Eh, per essere meritevole però avrei dovuto fare così e così e così, o dovrei essere così e così e così, dovrei avere 30 kg in meno, dovrei essere più intelligente, dovrei non essere stata mai rimollata nella mia vita e bla bla bla, assolutamente. L'amor proprio non ha a che fare con la ricerca di motivi che mi portino ad avere amor proprio. Tu non hai bisogno di motivi per amare, rispettare, stimare te stessa. Questo è molto importante, perché troppo spesso andiamo alla ricerca di motivi, nel nostro presente o nel nostro passato, nella dimensione del fare, mentre questo amor proprio ha a che fare con la dimensione dell'essere. Io ho amor proprio verso me stessa perché esisto e punto. E quindi nel momento in cui abbiamo questo tipo di attenzione verso la relazione con noi stessi e più riferiamo a noi stessi quell'amore che tanto cerchiamo fuori, che tanto abbiamo cercato fuori, più le relazioni che noi viviamo andranno a conformarsi con questo nostro credere, quindi con il credere di essere una persona straordinaria, una persona amabile, una persona che merita l'amore e ciò che desidera, più io credo che sia così e quindi continuo a coltivare nella mia realtà interna questa credenza, più lo rifletterò nelle relazioni che mi troverò a vivere e saranno delle relazioni che saranno allineate a questo credere che io ho di me stessa e quindi avrò a che fare con persone che hanno la stessa stima, lo stesso rispetto, lo stesso amore che io ho per me stessa. E poi come secondo passaggio è anche necessario andare a lavorare sulla credenza che si ha delle relazioni in generale, perché questo amor proprio ci deve anche portare a credere che proprio in virtù di questo sentimento che abbiamo verso noi stessi, le relazioni siano delle relazioni, le relazioni che incontrerò e che già nella strada verso di me o nella relazione che sto vivendo magari con una persona specifica, sia una relazione gratificante, sia una relazione basata sull'amore, cioè è necessario che io abbia la credenza che le relazioni, che una relazione d'amore possa avere le caratteristiche che io desidero e che mi fanno stare bene e che ci fanno stare bene. È fondamentale anche questo perché se sono disillusa dal tipo di relazioni che magari ho sempre vissuto o che sto vivendo e penso che l'amore sia così, che le relazioni siano così, che sia sempre tutto difficile, che riuscire a stare con qualcun altro è una complessità, alla fine rimani sempre delusa, l'abbandono e così via. Ecco, se noi continuiamo a portare avanti quella credenza della relazione, pur lavorando nel nostro amor proprio, creiamo lo stesso però una resistenza e quindi è necessario andare a lavorare sulla credenza, sulle credenze che abbiamo rispetto alle relazioni, pur rimanendo sempre che il primo lavoro da fare è sempre verso noi stessi, quindi coltiva il tuo amor proprio perché questo fa la differenza poi nelle relazioni che ti trovi a vivere nella tua vita, soprattutto in ambito sentimentale. Ti ringrazio molto per essere stata qui con me, è stato come sempre un grande piacere e ci vediamo nel prossimo video.